Vinnicia, città ucraina a soli 200 chilometri dalla capitale, qui uomini e donne dell'aviazione militare suonano in piazza Europa, una celebrazione per ricordare i primi 500 volontari che hanno scelto di entrare nell'esercito ucraino dopo i fatti di piazza Meidan. Oggi questa ricorrenza assume un significato ancora più importante, spiega Ulana, caporale maggiore dell'esercito ucraino a Vinnicia. Dobbiamo tenere alto il morale delle nostre truppe, dei nostri civili, di tutti noi. Sono infatti decine i cittadini che piangono mentre intonano l'inno ucraino. Ucraino a Vinnicia!